Ciao, volevo un'informazione per un tatuaggio. Certo, dimmi tutto. È il mio primo tatuaggio e volevo tatuarmi un lombrico. Ok, l'importante è che sei sicuro della tua scelta. Allora, questo è il preventivo. No, non è possibile. Era venuto fuori a un prezzo molto più basso. Scusa, guarda che io non ti ho mai fatto un preventivo. Sì, lo so, però mi dava un prezzo totalmente differente. Cioè, è un lombrico, mica una giraffa. No, scusami, proprio non sto capendo. Eh, alla mia amica è venuta fuori una giraffa. Non possono costare uguali. Eh, guarda, dipende da una serie di fattori il prezzo. Eh, lo stesso fattore. Abbiamo fatto il test su Facebook per vedere qual è il tatuaggio giusto per noi. E a quanto pare per me non è quello giusto. Già, a quanto pare no.